ragazzi sono anna dei wizard tab forse mi conoscete meglio come elena in the vampire diaries o naomi nel nostro progetto di corp sparty volevo solo darvi i miei auguri per un buon anno e anche il natale che è passato un poco e dirvi grazie grazie dei vostri like dei vostri commenti e anche per quelli che insomma verranno più tardi spero che continuerete a seguirci un grande bacio magico ciao ok deve essere partito ciao a tutti mi chiamo francesco dei wizard è la prima volta che mi registro è la prima volta che la metto su internet quindi mi sento parecchio non a mio agio allora mi conoscerete come satoshi di corp sparty 57 mila altri personaggi che adesso non ricordo perché la gente mi chiede di doppiarli io li doppio quando posso quindi magari la regia in posto produzione se riesce a far comparire tipo 57 mila pop up da tutte le parti come fanno sui post sulla pagina di il mondo dei doppiatori di genna sostanzialmente sono qui per augurarvi buon anno e soprattutto che l'anno nuovo sia propizio di nuove chance tanta felicità una gioia una volta ogni tanto perché non fa mai male e un bacio ciao a tutti sono Laura dei wizard up e sono qui come tutti gli altri miei compagni tutti gli altri maghetti per augurarvi un buon anno nuovo un buon 2018 e tante cose belle approfitto anche di quest'occasione per ringraziarvi dei tanti commenti pucciosi che mi state lasciando sotto al video di Uraraka grazie grazie veramente tanto perché quel video è particolarmente importante siete troppo dolcini e nulla spero di fare più doppiazzi perché ultimamente sono sparita praticamente dal mondo e nulla buon anno nuovo e c'è anche il mio cagnolino ciao Kirul guarda in camera e nulla non guarda bella ciao ciao ok ci siamo è più facile doppiare una giornata intera che fare un video di pochi istanti ciao a tutti io sono Maurizio e faccio parte dei wizard up è un gruppo che si è formato quest'estate di cui io con sorpresa mi trovo abbastanza bene in quanto non è facile collaborare con diverse persone mettere insieme diverse idee diverse diversi modi di vedere le cose ma il doppiaggio unisce creatività e collaborazione e siamo un gruppo abbastanza unito e solido abbiamo iniziato con diversi progetti ne stiamo portando nuovi avanti tra cui il più importante attualmente è Corpse dove ho fatto la parte di Morishige altre scene altre serie tv tra cui Vampire nel ruolo di Daemon nulla vi auguro buone feste perché ancora siamo sotto le feste buon anno nuovo continuate a seguirci e se non ci avete mai seguito seguiteci sul canale youtube wizard up ciao a tutti ciao ragazzi io sono ambrogia di wizard up sono la voce di seiko e yuka in e course party ma ho fatto anche altri personaggi come per esempio aloe stransi e se il fanto mag di break butler giusto per citare le ultime clip ho fatto anastasia scarlet exterminator e moana e insieme a tutti gli altri miei amici maghetti vi auguro un buon e soprattutto magico 2018 spero che continuate a seguirci nel nostro canale nella nostra pagina facebook e vi auguro che tutti i vostri sogni e desideri si possano realizzare un magico bacione a tutti ciao a tutti sono Sara mi avete già visto per l'estrazione oggi sono in cosplay di Mabel di gravity falls cosplay in istante diciamo perché il cosplay ho preso questo maglione poi sono uscita con un'altra maghetta mi conoscerete principalmente per maio di corp's party o non so a rale o forse faremo anche un doppiato su gravity falls non lo so anche per dotte di sono qui per augurarvi buon anno felice 2018 e tanta felicità ciao io sono Elena dei wizardob e vi faccio gli auguri per il nuovo anno e tante cose belle io ho doppiato tante troppe cose nel mio canale e magari mi si può ricordare soprattutto per le voci un po' cartonate se vogliamo tipo Judy o non lo so rio e niente io collaboro con i wizardob mando tanti saluti a tutti quanti e ancora buon anno nuovo salve a tutti ragazzi io sono Zeno e se vi state chiedendo il perché io non abbia il video la faccia in questo momento come tutti gli altri beh il fatto è che mi secco comunque come tutti gli altri ho doppiato qualcosa amatorialmente sul canale non ho ancora doppiato corp's party perchè il mio personaggio comparirà nel secondo episodio che non vedrete tipo mai no vabbè a parte lo scherzo sono stato alucard in castlevania pennywise nella clip di it del 2017 quello che ha anche fatto la risata di light di death note e poi barry allen nella clip con oliver queen della serie the flash e così via sono tanti non ricordo tutti magari se la regia mi può aiutare mettendo qualche immagine così grazie 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 comunque ragazzi come tutti gli altri vi auguro un buon anno un buone feste perchè ancora siamo sotto le feste e e grazie ancora per il vostro supporto anche che siamo piccoli siamo però pian piano crescendo buon anno ciao 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 Grazie a tutti.